salve nelle precedenti puntate mi avete criticato avete detto che era tutto finto avete persino insinuato che no 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 aspetta lasciami finito voi mi avete sfidato e sapete che c'è c'è che io ho accettato la sfida benvenuti alla puntata speciale di cucina ad alta velocità abbiamo scelto sei di voi quelli più fastidiosi e oggi insieme al mio amico davide cucineranno al posto mio ad altissima velocità una particolare ricetta in bottino di alici con impasto di pinoli olive nere e zest di lime fatemi vedere che sapete fare davide mi raccomando vai forte ma è proprio veloce vuoi sentire urlare da qua in che senso dietro come ti chiami io a massimo mangiato sì sì tutto a posto grazie allora ragazzi aspetta fai viena allora sì allora la risoletta è un'immunità un'immunità prendete l'albume nuovo sì prendiamo prendiamo allora tre lacrame di parmi tre lacrame di tre fa ingrattato e mettermi all'interno dell'albume e poi mischiare e girare e girare e girare e girare e girare e girare per avere una manchina un posto ben o che girare girate sempre aspetta sempre ho chiuso il mondo degli ingredienti aspetta i pinoli ci sono dobbiamo dobbiamo impastare ci vuole cricubina tonciata aspetta 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 non ti prego ti prego una cosa aspetta non ci sono Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa E' proprio che stiamo a passare! E' passare! E' passare! E' passare! Sto creando questa palla con quello che ormai mi è rimasto Cioè, Olivo, aspetta! Che sei? Oh! Ma non vuoi fare niente? Come ti chiami? Travite, come si chiama? Come si chiama? Come ti chiami? Il nome, il nome e il cognome, te lo danno alla nascita, ti fanno pure un battesimo. Mi lo darò! Vuoi fermarti di fronte? Quando avete finito dovrebbero venire un po' stavolcello e poi sempre dovrebbero... e poi raccogliere quello che scade e girare... e rimorre Alice e rendere tutto abbastanza omogenita. In bottine di Alice di vomito! E ora questa porcheria te la mangi tu. È venuta abbastanza bene questa prima. È venuta fantastica. Complimenti. Ti odio. Ciro, sono mamma, te la sei fatta sotto anche stavolta? A presto! Prendi Alice di Votovi немножко fica da parte. A presto! Ampettito. Ciro.